Sono ore calde in casa US Avellino 1912, ore nelle quali verrà definito il futuro perché non c'è proprio tempo da perdere, gli errori del passato non vogliono essere più ripetuti. Se si ripartirà da Salvatore di Somma e Piero Braia lo scopriremo tra pochissimo. Nelle prossime ore e due si vedranno con il presidente Angelo D'Agostino e suo figlio Giovanni che come al solito preferiscono non parlare ma fare i fatti. Non a caso l'impressione è che tutto verrà ufficializzato nel corso di una conferenza stampa programmata tra venerdì e sabato prossimo. L'intenzione di di Somma è noto a tutti, restare, raddoppiare, arrivare in Serie B. Anche Piero Braia, nonostante qualche tenternamento iniziale, non solo vuole continuare ma farlo con una rosa rinforzata e forse di maggiore esperienza, soprattutto in attacco dove l'unico destinato a rimanere è Riccardo Maniero. Cosa ha in testa? Angelo D'Agostino lo sa solo lui ma le rivoluzioni sembrano lontane, almeno in questa fase. Il presidente, subito dopo aver chiuso il capitolo di esse allenatore, si concentrerà sulle scadenze. Entro il 21 giugno bisognerà presentare alla Lega Pro la licenza d'uso dello Stadio Partenero Lombardi. Entro il 28 invece vanno pagati gli stipendi di marzo, aprile e maggio e presentata l'iscrizione al prossimo campionato con la fideiussione a garanzia di 350.000 euro. Nelle scorse stati questi erano momenti all'insegna del pathos, dell'ansia per i tifosi, per gli addetti ai lavori, alle prese con società ballerine e instabili a voler usare un eufemismo. Ora tutto questo fa parte del passato, il presente è pieno di speranze e buoni propositi ma raggiungere l'obiettivo Serie B tenendo comunque d'occhio il bilancio in tempi di Covid non è una missione certo facile per il gruppo di Angelo D'Agostino. Grazie a tutti.